Bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringi Luca, siamo oggi a Natale, sì, è proprio Natale, che bello, sì, non vedevo l'ora perché, beh, oggi abbiamo aperto i regali, c'è tanta gioia sia per strada che in tutte le case d'Italia ormai e quindi non vedo l'ora di farvi gli auguri anche da parte mia, ma c'è una piccola chicca, ne parliamo dopo la sigla. Finalmente ci siamo, il Natale è una festa che io ritengo veramente molto importante, negli scorsi anni e chi vuole si va a recuperare i vecchi video oppure chi mi segue da un po' lo sa, ho espresso varie volte questo parere perché ritengo che sia una festa veramente molto bella, molto importante, a parte dal punto di vista religioso che c'è a chi può piacere e c'è a chi no, ma è una festa che riesce a riunire le famiglie, a creare gioia all'interno delle città, a creare qualcosa di nuovo, si avvicina anche la fine dell'anno, quindi qualcuno cerca di fare sempre qualcosa di più e poi si dice ormai da sempre che a Natale si è sempre più buoni. Proprio per questo volevo ringraziarvi perché siamo arrivati finalmente a muro dei 500 iscritti, per me 500 iscritti è un traguardo veramente molto importante ma lo ritengo piccolo, lo voglio ritenere piccolo in realtà perché non vedo l'ora di superarlo, di scavalcarlo e prendere una corsa fino ai 1000, i 2000, i 10.000 o addirittura i 100.000 iscritti. Vi ringrazio di tutto questo, spero che i video nell'ultimo periodo perché credo di aver alzato di non poco la qualità ed è una cosa che mi hanno riscontrato in molti, mi sto impegnando molto di più nel montaggio, nell'editing, insomma un po' in tutto e spero che vi faccia piacere. In ogni caso fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io quest'anno che sta avvolgendo al termine volevo ringraziare tutti voi a parte per i 500 iscritti facendovi un piccolo regalino perché ci sono molti di voi che mi supportano veramente tanto qui sotto nei commenti e vorrei cercare di ampliare questa community facendola arrivare magari anche ai vostri amici. Creando questo piccolo giveaway potrei raggiungere questo traguardo, questo piccolo ulteriore traguardo che mi sono messo per la fine dell'anno dato che il 31 uscirà un video dove uscirà appunto il vincitore di questo giveaway. Giveaway per partecipare è veramente molto semplice, in ogni caso vi lascio tutta la spiegazione per partecipare in descrizione. È un piccolo regalino che volevo farvi, lo faccio io di tasca mia perché io da questa piattaforma non ci guadagno assolutamente nulla e quindi vi ringrazio di tutto questo. Detto questo ragazzi sto parlando veramente tantissimo, voi dovete correre a fare il pranzo di Natale dato che oggi è Natale e quindi non voglio rubarvi altro tempo alla famiglia e vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube.